Si chiama Atos Schiavi, vive a Sarmato ed è probabilmente uno dei re dei tartufi piacentini per quanto riguarda questa stagione perché nei giorni scorsi in Valtidone, in un posto sopra Pianello che ovviamente resta segreto, ha trovato un tartufo addirittura da 600 grammi una scoperta eccezionale Sì, più che re dei tartufi direi un tartufaio molto fortunato perché di così grossi soprattutto nella nostra provincia non se ne trovano Io vado a tartufi con amici anche, frequento anche social su Facebook eccetera per cui conosco più o meno quali sono i ritrovamenti delle pezzature Questa pezzatura di 600 grammi è da record straordinaria È straordinaria, avrebbe anche un valore commerciale sicuramente di diverse centinaia di euro ma proprio come fanno i veri appassionati, lei non lo venderà mai al massimo lo utilizzerà in cucina e lo distribuirà ad amici e parenti Esatto, esatto Penso, credo di fare una cena tra amici Gustamolo tra amici Penso che sia la cosa migliore C'è da dire grazie alla fortuna ma anche ai tre cani che fedelmente da anni la accompagnano in questi viaggi sulle montagne della Valtidona Esatto, sì Io ho questi tre amici che mi porto dietro non tutti e tre insieme ma due per volta e che mi accompagnano per ogni weekend quasi tutto l'anno per tartufi se di bianco che di nero Il fatto che sia stata un'estate molto piovosa è favorevole alla nascita, alla creazione appunto sottoterra di questi tartufi? Sì, quest'anno ho eseguito dei ritrovamenti molto interessanti a partire da 370 grammi, 430 e questo da 600 Per darvi un paragone, gli altri anni come pezzatura massima siamo intorno ai 200-250 grammi Quindi per voi tartufai questa estate così anomala è stata una fortuna? È stata una manna, come si dice, una fortuna Infatti io ho approfittato per le mie uscite e poterle fare in più occasioni possibili Chiaramente non tutti hanno la fortuna, la capacità di trovare così tanti tartufi Si sentirebbe comunque di consigliare a qualcuno, se non altro, per stare a stretto contatto con la natura e con i bei paesaggi che si possono incontrare nei nostri boschi? Ma io sì lo consiglio, soprattutto a persone che appunto amano gli animali e amano stare in mezzo alla natura e perché no anche con gli amici Grazie Grazie